Cappiello. Prof, perché proprio io? Perché no, mi scusi. Tanto prima o poi vi devo sentire tutti. Se vuoi, vengo io. Bravo, bravo, così, così. Bertoli, ti metto tu sulla fiducia? No, muto, muto, sto muto, muto. Magari. Allora, Cappiello, che facciamo? No, io prof, verrei anche, però veramente stanotte la bambina proprio non ha dormito, vomitava. Insomma, alla fine... Montesi. Montesi? Si fa presto a dire Montesi. Così come seconda scelta, cioè, lei aveva detto capito. No, perché se lei mi avesse chiamato per primo, guardi, io sarei venuto serenamente. Ma così, pescato come ripiego, poi magari anche maldisposta, non mi giudica serenamente. Al di là del preparato o non preparato, proprio umanamente non me la sento. Grazie, scusate. E invece di prendere due, se la sente? Vengo. No, vabbè, allora scusi, prof, allora vengo anch'io. Ecco, perfetto, venite tutte e due. Ma che è successo alla bambina? Ma no, non ti preoccupare, sorti, niente poi dopo. Scusi, professoressa Russo. Chi è? Ah, mi spiega.